Ma qualcuno che io dico, questo qua te lo faccio un po'. Allora questo qua è uno strumento popolare che si chiama PuTibu. E' uno strumento che fa dal basso l'accomagnamento, però fa un movimento un po' strano, ti ricordi qualcosa? Allora è uno strumento che fa dal basso e molte donne ridono. Ma perché ridono? Perché ridono le donne? Sotto al baffo... Ok, lo facciamo sentire. Una canzone che si chiama Buonasera. Non è un po' strumento che fa dal basso. È un po' strumento che fa dal basso, ma che si chiama Buonasera. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.